ammo che stai leggendo qua nella villa dei nostri amici ci sono affitto voglio dire una cosa che devi dire ma sono quelli della grigliata che ci hanno affetto pronto ciao armando i morti di fame ho visto che ti stai affittando questa casa questa villa scelta ma già l'hai affittata ancora no 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 non sono interessato per nulla però stavo pensando una cosa il tempo che tu te l'affitti non ci potrei venire a stare io gratis come no scusami ma io te la apro te la rieggio se vengono persone gliela faccio vedere ma vuole soldi che c'entra quando tu te l'affitti io me ne vado non mi porto nulla come bell'amicizia fai bene aiata cataratta possibilmente non te l'affitti allora perché io ci aprivo il cancello aprivo le finestre cioè hai un modo così scortese veramente ringraziamento comunque diciamo qualcosa per la cena nel frattempo comunque lasciamo stare questo argomento e torniamo ai tempi nostri ma che cosa hai rostito no vabbè nulla ma non hai comprato pesce a posto sei diventato più morto di fame di me allora arrivederci bello sì ciao ciao buone vacanze ma guarda questo ma non era amico nostro amico nostro che cosa io gli era a rieggiavo la casa ma perché se l'affitta ma ma famona ma cosa affitta si c'è niente non gliela vuole dare per la rieggia ma sei del sei deluso no guarda la gente è cattiva ah è cattiva no vabbè no vabbè saluta ciao ragazzi sono nervoso